Sul caos nella gestione della graduatoria dei fisioterapisti presso l'azienda Moscati, la FIALS Salerno, attraverso il segretario generale provinciale Carlo Lopopolo, ha deciso di proclamare lo stato di agitazione a seguito di ripetuti rinvii nelle convocazioni per la scelta delle sedi. Dopo il primo rinvio, che ha spostato la seduta dal 2 al 10 ottobre per ulteriori valutazioni, ci saremmo aspettati maggiore chiarezza d'organizzazione, afferma Lopopolo, che sul caso ha inviato una nota all'ASL Salerno. Tuttavia, anche la nuova data è stata disattesa senza alcun preavviso, creando gravi disagi e professionisti coinvolti, molti dei quali avevano già chiesto permessi o ferie per partecipare. Il sindacato evidenzia come l'azienda abbia dimostrato una scarsa capacità di valutare correttamente il fabbisogno dei macrocentri, compromettendo così l'assegnazione delle sedi lavorative. È inaccettabile che la direzione sanitaria mostri una tale disorganizzazione che non solo calpesta la dignità dei lavoratori, ma li lascia in balia dell'incertezza, continua Lopopolo. I fisioterapisti hanno diritto a risposte chiare e tempestive, invece si trovano a subire continui cambiamenti dell'ultimo minuto, senza una visione concreta del proprio futuro professionale. Il ripetuto rinvio delle convocazioni, avvenuto senza comunicazioni tempestive ed adeguate, rappresenta per la FIALS provinciale una grave mancanza di rispetto e professionalità. La pazienza dei lavoratori è ormai al limite, dichiara Lopopolo. Non possiamo accettare che si continui in questo modo, ignorando le esigenze di chi si è già reso disponibile a ricoprire l'incarico. La FIALS Salerno richiede un riscontro entro cinque giorni. Se non riceveremo una risposta in tempi brevi, saremo costretti ad intraprendere tutte le azioni sindacali necessarie per garantire il rispetto delle corrette procedure di reclutamento e la tutela della dignità dei nostri professionisti, ha concluso Lopopolo. Intanto anche un altro sindacato, la CISL Funzione Pubblica di Salerno, proclama lo stato di agitazione. La Direzione Sanitaria dell'ASL di Salerno attacca il segretario provinciale della CISL Funzione Pubblica di Salerno, Alfonso Della Porta, non controlla l'andamento degli organici e non ha alcuna conoscenza di carenze e fa bisogno per procedere all'adeguamento delle carenze di personale. A seguito delle inaccettabili mancate risposte da parte della Direzione Sanitaria relativamente alle assunzioni di fisioterapisti rinviate già una volta, ieri quando gli interessati erano stati convocati e si sono presentati per la scelta delle sedi disponibili, si sono ritrovati a dover affrontare una triste ed inverosimile realtà. Il fabbisogno necessario a coprire le carenze per la figura non è stato individuato e pertanto nuovamente saranno riconvocati a data da destinarsi. È inaccettabile che a distanza di settimane non siano state intraprese azioni concrete rispetto alle richieste legittime ed urgenti presentate con nostra precedente nota, prosegue Della Porta. La nostra pazienza ha un limite, i professionisti della salute meritano dignità e rispetto nel loro posto di lavoro e pertanto ci aspettiamo un intervento immediato da parte dell'azienda, altrimenti non esiteremo a prendere misure più incisive. Gli operatori sanitari ed il personale del comparto, chiosa Della Porta, non possono essere ignorati ulteriormente.